Diciamo subito di non creare allarmismi. Il nostro depuratore è uno dei tecnologicamente più avanzati del centro-sud. La settimana scorsa abbiamo fatto un'ispezione congiunta con l'ARPAC, dove abbiamo fatto anche le analisi delle acque, sono purissime. Il fatto denunziato dai gruppi di opposizione evidentemente non conoscono bene il territorio, perché se non hanno il coraggio di denunziare qualche ufficio a monte del depuratore che scarica abusivamente, questa non è certamente colpa nostra. È chiaro che in seguito a questa denunzia io ho già mandato il comando vigile con l'ufficio tecnico a prendere visione di quello che è successo, ma al di fuori del depuratore. Il nostro depuratore funziona alla perfezione, quindi dico ai cittadini di stare tranquilli, lo possono verificare. Abbiamo fatto dei lavori di canalizzazione per spostare nei valloni consortiti i residui, ma sono puri, è acqua limpida che esce dal nostro depuratore. Quindi bisogna vedere se c'è qualcosa a monte che l'opposizione non ha avuto il coraggio, qualche ufficio che non ha avuto il coraggio di denunziare. Lo faremo noi, se questo è avvenuto lo faremo noi.